Si chiama Scott C. Warning e è un famoso ufologo esperto di ufo, il quale avrebbe fatto sapere che ci sarebbe il cancello verso un altro mondo, o se è una porta d'ingresso per una base sotterranea aliena. La scoperta si sarebbe verificata grazie a Google Earth in un'isola disabitata della Indonesia, di cui coordinate geografiche sono presenti qua su web. Nell'immagine si vede distintamente una sorta di rettangolo poco più scuro che, secondo l'uomo, secondo Warning, sarebbe proprio la porta d'ingresso di un mondo alieno, parallelo a questo. Poco lontano di lì la foresta, lo strano rettangolo, è in un'area sabbiosa proprio sulla riviera. Per l'ufologo, Google avrebbe scattato la foto in un momento piuttosto particolare. Si vedrebbe un ufo che è avvurato attraverso questa porta, che stava tacciando la base sotterranea. Come facciamo a saperlo? Perché gli interni, più profondi del tunnel, sono piegati al tempo stesso chiusi, ma l'area delle superfici esterne rimane ancora aperta, così avrete detto Warning al portale e database. Vi ringrazio per l'asfolto, il video termina qua. Iscrivetevi, se vi ho, commentatevi. Un saluto caro da Reandro, un narratore italiano.